La regia sta inquadrando il nostro Giuliani, che canta, è una roba, è uno spettacolo, forza ragazzi, spettacolo obroprioso, è linguaggio automatico, comunque è inutile che cerchi di fare di tutto per gufare, pirla dun pirla! Ma perché lo fengono? Ma poi è Rino, fa il suo mestiere! Ma perché tu non guffi? Io no! Grazie a te l'avuto che non sei altro! Io non guffa lui! Partiti! Prima palla toccata dalla Juventus! Cagliari! 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 Con il discorso, da questa tribuna gridai Udinese Udinese e l'Udinese ha vinto! Adesso Cagliari! Cagliari! Bene, andiamo in troppo! Attenzione, lo batte del Piero, salta le contate! Goal! Goal! La Belva! La Belva! Eccolo qua! L'amorina, c'è un'altra parte di trovare a Netbez! Detto di Netbez! Goal! Goal! Netbez! Cagliari! Gran gol di Netbez! Gran gol di Netbez! Gran gol di Netbez! Nera ora! Netbez! Gran dentro di Netbez! Buongiorno! 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 Attenzione, abbiamo un amico di Sissoko! Aspetta, fermo! Chi l'è? Un amico di Sissoko! Sei un amico di Sissoko? Sì! Sì! Sei un amico di Sissoko! Sì! Sì! Sissoko! 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 Flamin, Mohamed Sissoko! Buongiorno! Tre, tre, buongiorno! Siamo internazionali, ragazzi! Eh, sei un amico stupendo! Non hai capito una parola di quello che ti ha detto! Non ho capito niente! Esatto! Tutti sei presentato! Parte del Piero con il dentro! Il passaggio ancora! Riparte Cagliari, l'altra riposizione regolare! Negrotaglia chiude! Ah! Buco, tiro, gol! Tre a due per il Cagliari! Altro buco difensivo! Mamma mia! Altro buco difensivo! Guarda in pochi! Cagliari! Scagliari! Scagliari! Del Piero! Del Piero! Pallone lì! Grossi del Piero! Sbagliato! Netto il limite dell'area! Prova a sinistro! Due metri al lato! Nullo di fatto! Beh, possiamo staccare su quel wall che ha preparato il fotomontaggio... Quattro minuti di recupero! Ecco! Who's that Zulian! Con la faccia di Zulian! E il corpo di Madonna! Ecco, sentiamo anche Who's that girl! Quattro minuti! Come sei carina vestita così! Seno zero però! Oh! 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 Oh baby, I cherish the joy! You keep bringing into my mind! E sta bene per il Pirla lì! Che faceva lo spiritoso! Veniva qui! Meno tre! Meno quattro ti faceva! Meno uno! Elio! Siamo in testa! Noi siamo in testa! Voi siete finiti! Elio! Faceva il Pirla! Adesso si ritrova! Forse domani a meno nove! Così impara a fare il Pirla! Elio! E gli sta bene! Elio! E gli sta bene! Elio! Non parlo con te! Elio, sai cosa ti dico io dopo questa sconfitta? No, mi interessa! Che io vinco lo Scudetto! Sì, va bene! Perdi in casa col Toro! Hai capito? Va bene! Segnatelo! Va bene! I tiposi dell'Inter ringraziano! Va bene! Perderò in casa col Toro! Pirla! Pirla lo vedremo a maggio! Chi è dei due! Va bene! D'accordo! Io altro qualcosa!